In merito alla posizione del barco elettronico che controlla gli accessi su via Flavio Gioia e via Mazzini ad Agropoli, attivo in via sperimentale da pochi giorni, è stata fatta una raccolta firme da parte di diversi cittadini, contrari all'applicazione del nuovo dispositivo. Sulla questione è intervenuto il sindaco Adamo Coppola, il quale sottolinea che il medesimo accorgimento vuole evitare ingressi di veicoli che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone intente al passaggio e che si intrattengono nei luoghi della Movida. Quello che voglio sottolineare è questo, non è cambiato niente, la zona a traffico limitato c'era e c'è, la zona pedonale c'era e c'è. L'unica differenza è che, dato che noi non riuscivamo con i vigili urbani per un problema di personale ridotto ad essere presenti ed evitare che le macchine passassero indisturbate tra i passanti, che queste macchine riempissero in maniera non corretta punti in avralgi della nostra città, come il centro storico. Quindi vedere questi spettacoli di decine di macchine messe in doppia file, in tripla file, in luoghi dove dovrebbe essere libero il passaggio. E vedere ancora di più automobili, di passeggiare in mezzo alla gente mi sembrava una cosa assolutamente indecente e quindi noi con i vigili urbani non riusciamo a contrastarlo. Non abbiamo fatto altro che posizionare le telecamere per fare in modo che questo assoluto disservizio fosse più controllato. La zona ZTL già c'era, la zona del passeggio, quindi la zona pedonale di passeggio, già c'era, c'è sempre stata. Si trattava soltanto di rafforzare il controllo, cosa che abbiamo fatto. Allora non capisco davvero le polemiche e da cosa vengono fuori. Prima, in particolare in via Flavio Gioia, la strada che per indente si scende poi per via Mazzini per arrivare al porto, c'era un vigile urbano posizionato con una transina dalle 8 che impediva le persone di passare. Perdere un vigile urbano per un'intera serata lì ci sembrava uno spreco, molto più utile farlo girare per i controlli. Al posto del vigile urbano ora c'è una telecamera, nulla è cambiato rispetto a prima, io realmente anche con un certo imbarazzo non riesco a capire le polemiche a che cosa fanno riferimento. Mi viene da pensare che sono strumentali e magari hanno, che lo sa, anche un accenno politico o la volontà a tutti i costi di criticare tutto e tutti. Ci sta anche questo, però noi doverosamente le rispingiamo al mittente perché riteniamo di aver fatto soltanto rispettare una cosa che c'è da vent'anni. Quindi con molta tranquillità andiamo avanti, raccomandiamo alle persone di non passare in quelle aree, negli orari che sono state naturalmente chiuse, in particolare ancora tornando a via Mazzini, si tratta di un orario che va dalle 8 di sera alle 6 del mattino, un orario naturalmente che non assolutamente danneggia nessun commerciante perché poi durante la giornata il passaggio è possibile. Non solo questo, vi posso dire, insomma nel periodo invernale questa chiusura non sarà neanche operativa in giornate dove non c'è il passeggio. Cioè per intenderci, se il sabato sera d'inverno ci sarà il passeggio, sarà attivato il varco. Ma nelle giornate invernali in cui questo passeggio non c'è, noi lasceremo aperto tranquillamente il varco. Il senso è soltanto quello di proteggere i pedoni e credo che rispetto a questo non ci siano critiche che possono tenere.